. per l'anno sulle cose ok un grazie grazie umarł grzesiu grazie chrześ następuje magiskna ręka kręcimy film próbujemy, próbujemy oczy niej nie kręci w oczy nie 2 minuti 2 minuti 2 minuti 4 minuti 2 minuti Zasiu odpalaj 1 minuti 2 minuti 2 minuti 2 minuti 2 minuti ... c'è il mio strument c'è il mio strument il mio si è rimasto si, è rimasto ha 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 Grzesio, ma che ci si smiechisci in 5 minuti 3 3 Plus quello che ho detto Sì che ho fatto E' un'ultimo come oggi E' un'ultimo E' un'ultimo E' un'ultimo Non voglio fare le vostre tożsamoci Non voglio fare le vostre tożsamoci Non voglio fare le cose Non voglio fare le cose Grazie a tutti.